Si stanno usando anche i droni che di giorno e di notte volano sui boschi tra Mardiano e Pescia per le ricerche di Alessandro Ricci, il 55enne di Montecatini di cui non si hanno notizie da venerdì scorso. Li stiamo utilizzando sia per la ricerca in zone impervie, soprattutto dove non possono accedere le persone direttamente, quindi anche in cave, in zone scoscese, dove il drone ha quella possibilità di poter riprendere e controllare zone particolari e in più anche per il controllo notturno con delle videocamere termiche. Tutta l'area, molto impervia, è battuta da decine di squadre di soccorso anche con l'ausilio di cani molecolari. Abbiamo delle unità cinofile, stamattina tre unità cinofile, poi si espanderà a quattro nel pomeriggio e in collaborazione con il Vigile del Fuoco per scandagliare un po' tutte le zone e cercare di escludere zona a zona in modo tale da essere sicuri che in quella zona non ci si debba più ritornare. E' stato proprio uno di questi che ha permesso di identificare le tracce del 55enne, secondo quanto ricostruito, andato in montagna per cercare funghi. Praticamente hanno fatto delle tracce in terra, hanno fiutato, ci hanno portato in quella zona dove fra le tante è stato trovato il motorino, già da sabato, e adesso riprendiamo quella zona lì. Prendiamone due sole di macchina, due gippe sole. Le squadre sul campo vennero impegnati sino ad oggi i Vigili del Fuoco, personale del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, Carabinieri e VAB, con loro protezione civile ed associazioni di vari enti, arrivati anche da fuori provincia per partecipare alle ricerche. Quante squadre sono impegnate al momento? Attualmente otto squadre. Abbiamo richiesto personale SAF per oggi pomeriggio per poter verificare anche le zone più impervie.